Stai iniziando a fare speedrun e vuoi imparare a trovare il bastione subito appena entrato all'interno del nether? Beh, questo video, fa il caso tuo! Chi sono io per insegnartelo? Beh, sono un ragazzo di 17 anni, sono Rickatz, il pluginner più famoso di Minecraft Italia, nei miei video insegno come creare server, ma oltre questo insegno anche come iniziare nelle speedrun, perché poco tempo fa ho iniziato anche io e ho fatto un po' di ricerche in giro. Ovviamente anche io sto iniziando, sono un po' scarsetto, però a parte questo comunque possiamo tranquillamente divertirci insieme e quindi vieni in live tutti i giorni alle lunedì, e quindi vieni in live tutti i giorni tra il mercoledì e il sabato alle 17.30 dove vado a fare effettivamente dei video, scusate, delle live, nella quale vado a fare speedrun di Minecraft sia su YouTube che su Twitch. Andiamo a vedere come si fa. Siamo all'interno di Minecraft, ovviamente ricordatevi che se avete bisogno delle mod da scaricare e il client da scaricare, guardate il video in alto a destra dove potete vedere effettivamente quali sono le mod da scaricare all'interno di un client per giocare alle speedrun per bene, oltre questo potete andare a vedere qual è il modo per fixare il problema che c'è sulla mod di Word Prefix, che è un altro video che ho fatto in passato. Dopo questo andiamo ragazzi direi a creare subito un mondo, io utilizzo questo qui della mod, però voi se non lo avete guardate il video e poi potrete farlo. Una volta fatto questo andiamo su Open to LAN e mettiamo i Cheats in quanto tale che io posso andare subito nel Nether, perché sinceramente non ho voglia di fare nulla di strano. Allora, fill, questo, 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 con questo, 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 Nether, non si può? Portal, Nether portal. Perfetto, andiamo dentro e vi faccio subito vedere come trovare effettivamente un... Lo possiamo fare? Ok, allora siamo nel Nether, come dobbiamo fare? Bene, la tecnica è molto... la tecnica è molto semplice, c'è un casino, mannaggia alla miseria della musica. Allora, è molto molto semplice, dovete fare F3 e aspettare che, facendo stop in questo modo, non perdete troppo tempo, il mio timer sta andando avanti perché ho aperto con LAN, solo per qui. Ma veramente io ho guardato un Enderman a caso senza volerlo? Ma che sfiga, cioè nel senso, quanta probabilità c'era? Vabbè, rientriamo nel Nether. Salve Enderman, basta, non si può di... Vabbè, comunque, allora praticamente ragazzi, cosa dovete fare? Dovete cliccare F3 e aspettare con F3, in realtà potete fare anche F3 ESC, se tenete schiacciato F3 mentre fate ESC, ve lo stoppa adesso non perché sono, dato che sono in Open LAN, non funziona, però, a parte questo, vabbè, comunque non funziona, però voi potete fare stop, controllare effettivamente le coordinate, e... no. Una volta che siete nel Nether, ragazzi, cliccate F3, vi consiglio di entrare direttamente con F3 all'interno del Nether e una volta che avete fatto questo, fate stop. Per quale motivo? Perché una volta che voi sarete entrati all'interno del Nether, non avrete tutti quanti i chunk caricati, in che senso? Nel senso che effettivamente il mondo di Minecraft ha bisogno di tempo per caricare i chunk e per caricare le entità. Per quale motivo abbiamo bisogno di questo? Perché noi andremo a vedere tramite l'F3 effettivamente quali sono le entità che abbiamo vicino a noi, perché ci serviranno effettivamente per capire quali sono... qual è la posizione dei bastioni. Una volta che abbiamo cliccato F3, dovremmo fare una cosa, prendere questo numero vicino alla M, cioè 71 in questo caso, il numero vicino alla C, cioè 42, fare la somma tra questi due, cioè 112, e diminuire questo numero, ovvero 195 in questo caso, per quel numero lì. Nel caso in cui faccia vicino a 0, in quel caso non avreste un bastione vicino, e quindi la tecnica è fare video settings e aumentare i chunk. In questo modo avrete la possibilità di andarli a caricare facendo esc-esc, caricherà i chunk come potete vedere sta caricando, e avrete la possibilità maggiore di trovare altri bastioni, perché avete aumentato la possibilità ai chunk di caricarsi. Nel caso in cui invece il numero sia abbastanza alto e sia superore ai 30 circa, allora in quel caso avrete la possibilità di trovare un bastione, e quindi dovrete andare a fare opzioni, FOV a 30, e una volta fatto questo, andare a girare finché non vedete un numero abbastanza alto qui sul piccolo numero, ovvero quello prima dei 225. Cosa stanno a significare questi numeri? Queste sono tutte le entità presenti nei chunk caricati, queste sono tutte le entità che invece sono presenti nel raggio che noi stiamo guardando. Quindi praticamente abbiamo l'X-ray per vedere tutte quante le entità. E dato che i bastioni hanno un sacco di piglin al suo interno, hanno un sacco di entità al suo interno, e quindi sicuramente il bastione sarà focalizzato nel punto in cui ci sono più entità. In questo caso appunto è questo qui, perché potete vedere che ci sono 56 entità. Solitamente un bastione è presente dai 35 in su, infatti in questo caso abbiamo due bastioni, e adesso vi faccio vedere subito come fare a controllarli. Quindi abbiamo detto che un bastione è di qua, io direi che andiamo subito da questa parte per controllare. Ovviamente sarà minore la distanza di 18 chunk perché ce l'aveva già caricato prima. Andiamo giù e vediamo un attimo. Eccolo qua, vedete che c'è un bastione? In questo caso questo è uno stables, ma perché ogni volta che vado nei posti vado sempre negli stables, che è il posto più brutto che ci sia nella faccia della terra. Adesso andiamo a vedere se ce ne troviamo un altro, così almeno facciamo un po' di pratica. Come potete vedere da questa parte c'è 45, quindi sicuramente da questa parte qui c'è un bastione. Noi andiamo dritti, aspettiamo un attimo di beccare questo bastione fantastico. Ovviamente non è detto che sia vicino, magari è lontanino, dato che sono 22 chunk di render distance. Però come potete vedere il bastione c'è, in questo caso è un bridge. Se volete sapere come si fanno a risolvere questi bastioni, tra virgolette, ditemelo e io faccio un video apposito. Comunque questo bastione fa veramente schifo, cioè nel senso che sfortuna, che è proprio il posto più sfortunato dove poteva essere. La tecnica è questa qui, non c'è altro da imparare in realtà. L'importante è che ricordate questo, se volete sapere come invece trovare una fortezza, lasciate un commento e io tranquillamente vi faccio il video. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto. Venite in live tutti i giorni, lunedì, martedì, giovedì, venerdì e domenica alle 17.30 dove vado a fare speedrun insieme a voi. Iscrivetevi al canale se vi è piaciuto e oltre questo, vabbè, ovviamente lasciate like. Io vi ringrazio per effettivamente questo video. Se avete la possibilità di iscrivermi in privato per appunto problemi che avete, io vi rispondo subito. Utilizzate Discord, utilizzate Telegram, quindi fatelo tranquillamente. non ci sono problemi. Io ragazzi vi ringrazio e vi saluto. Ciao!